Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con Samuele Scotto, una vittoria davvero molto importante contro lo Saluzzo e vi consegna il campionato, sei davvero contento ovviamente per questa vittoria e emozioni a caldo di questo campionato vinto? Sì, è un sogno che sia vero ed è al 30 luglio, facciamo sacrifici per ottenere questo risultato e è una grandissima emozione riuscire a raggiungerla adesso Ti chiedo questo, rimarrai a Fossano? Questo non lo so, adesso mi godi festeggiamenti e poi vedrò cosa si fa Ovviamente ti facciamo i complimenti per la vittoria, sei già se per caso giocherai, se farai un po' di turnovre nella prossima gara al mister? Non lo so, adesso pensiamo a festeggiare e poi vediamo come preparare la partita di l'America Ovviamente complimenti ancora per la vittoria, sei contento anche della vittoria proprio quest'oggi contro il Saluzzo che vi ha consegnato ufficialmente il campionato? Sì, è stata una partita molto difficile perché loro sono una squadra molto forte e siamo riusciti a portare la casa 1-0, abbiamo trovato il gol e poi siamo riusciti a difenderci senza rischiare troppo Grazie mille Grazie a te